A distanza di soli tre mesi dalla Maratona Internazionale, Napoli torna ad ospitare un grande evento di atletica leggera. Partirà domenica 22 aprile alle 9 da Piazza del Plebiscito la quindicesima edizione di Napoli Half Marathon. Affascinante il percorso disegnato dagli organizzatori. I 21 chilometri e 97 metri del percorso toccano infatti i punti più turistici della città e avranno il loro epicentro proprio in Piazza del Plebiscito, dove saranno allestiti anche tutti i servizi per gli atleti e le iniziative di contorno. È l'occasione per fare tante iniziative per la città. Abbiamo fatto uno spettacolo con Monica Sarneri proprio in attesa della Maratona per devolvere il ben ricavato alla Lega Italiana Fibrosicistica. L'associazione della finanza che porterà i gruppi ragazzi down sotto la loro egito. Poi abbiamo l'Unione Italiana Cica che partecipa sempre ogni anno alla nostra manifestazione. Il venerdì sarà inaugurato il villaggio Maratona che ospiterà stand espositivi dedicati a visitatori ed atleti e dove sarà possibile iscriversi alla gara. In concomitanza con la gara più lunga domenica mattina si svolgerà anche la Corrinapoli città a passo libero sulla distanza di 3 chilometri dedicata a tutti gli appassionati non agonisti. Sabato mattina invece è prevista la Kids Run, minigara di circa un chilometro riservata esclusivamente ai bambini della scuola primaria con premi in palio offerti dagli sponsor. In contemporanea sabato mattina mille e una storia con Nati per leggere. Incontri riservati alle mamme e dai loro bambini per apprendere i segreti della lettura da piccoli. Stiamo operando il rilancio a partire dallo sport e sottolineando fortemente le attività sportive tutte, quindi a 360 gradi perché crediamo che lo sport sia il volano non solo del turismo ma anche della qualità di vita dei cittadini napoletani. Sono previste inoltre nel villaggio numerose iniziative e visite gratuite con specialisti legati alla settimana della prevenzione curata da EP Congressi. Il villaggio prevenzione prevede 4 giorni di visite e di consulenze e di focus informativi assolutamente gratuiti. Il messaggio fondamentale che deve passare è quello di venire in piazza in maniera allegra e inusuale a fare prevenzione. Per ogni altra informazione sul percorso, sulle modalità di iscrizione e su tutte le